ciao a tutti eccomi qua vestito da cowboy allora perché sono vestito da cowboy allora innanzitutto vabbè voi come sapete a me piace l'equitazione e ho montato sia all'inglese che alla western e e quindi ho deciso che questa primavera contatterò un maneggio dove io ho frequentato la scuola di equitazione di monte inglese che è il maneggio un po più vicino da casa mia di anche se comunque devo fare un po di chilometri con l'automobile perché poi c'è anche quello di san francesco al campo che è un comune più lontano e lì quel maneggio è bellissimo ed in monta western fanno anche un po di monte inglese ma soprattutto western però c'è un fattore che lì è troppo lontano e anche un po imboscato e quindi diciamo che non ci voglio andare anche per questo motivo qui solo per questo per questione distanza però se voi andate in quel maneggio lì circoli circolo ipico delle vaude che si chiama così strada militare 13 se voi andate in quel maneggio vi posso garantire che vi fate delle belle passeggiate a cavallo nei boschi potete passare a mezzo ai ruscelli una cosa grandissima c'è è una cosa fantastica sembra proprio di vivere un film western ma ne avevo frequentato un altro che si chiamava il grande ranch non so se c'è ancora che sempre a san francesco al campo però era un po prima se non ricordo male però comunque sono maneggi un po imboscati però sono veramente belli anche lì passeggiate a cavallo in mezzo ai boschi e lì ad esempio il grande ranch e dove ho montato il mio primo cavallo da rodeo che era un cavallo argentino tra l'altro era pezzato potentissimo che solo quando me l'avano detto questo qui è un cavallo da rodeo all'inizio detto speriamo che non me lo danno a me e invece me l'hanno dato proprio a me ma per quale motivo ma perché sapevano che io già avevo montato già da anni e quindi aveva una certa praticità e quindi quando me l'hanno dato è stata una cosa fantastica era un bravo cavallo però quando si è messo a galoppare in pratica nei prati lì sembrava un treno e non ero abituato a cavalcare nei prati alle epoca perché io ero abituato a trottare a galoppare all'interno di un recinto e sulla sabbia e tutta un'altra cosa non si sentono tutti quegli avvallamenti che si sentono quando invece si galoppa nella prateria e tutta un'altra cosa è una è bellissima come esperienza ma è molto più complicata quindi da lì posso un passato appunto nell'altro maneggio di san francesco al campo che appunto si chiama circolo delle vaude e questo circolo ipico è bello che quando uno va lì già si vedono tutti i cavalli nei vari recinti poi va beh c'è la club house poi ci sono la bandiera americana cioè un po così invece quello dove io vorrei andare si trova con legno scuderia la magnolia praticamente in strada torino pianezza e appunto io devo chiedere il permesso per fare dei video all'interno però se c'è ancora la vecchia guardia diciamo così la vecchia gestione allora in quel caso un po diverso magari potrei avere forse un permesso per farlo dato che conosco il proprietario hanno quel vecchio proprietario ma da quello che ho capito guardando su internet forse ha cambiato gestione quindi non lo so devo provare a chiedere vedere un po se mi danno il permesso prima di andare se me lo danno allora poi cercherò di andare sul posto e così almeno magari intervistarlo il proprietario così vi può raccontare varie cose almeno lui può indirizzare nei vari punti anche se io lo conosco almeno lo conoscevo perché sono tanti anni che non ci vado però magari con il suo permesso posso gironsolare tranquillamente in modo che lui possa spiegare e così possa rendere più interattivo il video oppure se mi danno il permesso di gironsolare da solo poi vedrò me lo auguro perché giustamente poi cercherò di non riprendere troppo le persone perché non so chi è che poi si vuole far riprendere oppure no vediamo se mi danno il permesso pure di entrare nella stalla in modo che posso farvi vedere i cavalli ed è una cosa bellissima questo ecco questo è uno di quei video che comunque fanno parte sempre riguardo non diciamo proprio torino città ma un po fuori però è sempre un qualcosa che riguarda diciamo questa zona qui dei maneggi vicino torino e so che a molte persone piacciono i cavalli forse non tutti però questa è una cosa distintiva del mio viaggio a torino perché io amo lo sport diciamo sport equestria no tutti ai sport equestri tranne la doma vaquera perché la doma vaquera è un po più cioè non è che mi piace un po più crudele tipo come la questa dice la la monta spagnola ho visto delle cose che non mi piacevano quindi proprio per questo motivo io non non voglio farlo diciamo non voglio mai cavalcare montare a cavallo insomma con quel tipo di monta ecco e poi niente vedremo io quindi io ve l'ho detto perché se vi piacciono i cavalli e mi danno il permesso allora potrete avere dei veri video bellissimi che cercherò di farli però in primavera e non in estate per quale motivo la risposta è molto semplice in estate i cavalli a causa del caldo sono sempre più nervosi almeno quando io andavo a cavallo era così non riuscivi tanto a controllarli quelli partivano e se andavano a fare i fatti loro si facevano i loro fugoni non li chiamavamo così i fugoni perché scappavano oppure non volevano essere controllati dall'uomo in quel caso lì perché giustamente loro hanno già uno spirito libero poi per di più faceva pure caldo poi magari ci sono gli insetti che si attaccano al loro manto e quindi tutto il loro mantello quindi potete capire che loro sono infastiditi per questo motivo qua e quindi niente per questo motivo che io ho scelto di andare in primavera salvo improvviso previsti insomma perché si sa quando uno vuole fare dei programmi tante volte poi succede che ci sono altre cose magari non si riesce a fare le cose come uno insomma non vengono le parole insomma come uno vorrebbe ecco comunque più o meno avete capito cosa voglio fare per questa primavera sarà un solo giorno però penso che sarà emozionante se libera e daranno insomma il permesso di poter filmare io adesso che vi ho detto questo vi saluto ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti